a rieccoci col bocca fada mangiare sempre sotto natale sempre qualcosa di genuino che possiamo utilizzare durante il pranzo di natale e sarebbe una bella lingua di vitello mollita con un pochino di salsa verde e le patate lesse di contorno ci stanno come il cacio e su maccheroni la lingua bollita molto facile da eseguire basta comprare la lingua di vitella se volete potete utilizzare anche quella di manzo ma dovrà cuocere molto di più questa è una lingua che intorno a un'oretta è già pronta dalla tenerina pronta per essere impiattata e farà fagurona con i vostri commensali come al solito col bocca iniziamo con gli ingredienti l'ingrediente per 4-5 persone ha un bel bastolino di lingua bollita con le patate sono 4-5 patate lesse che avete tagliato a fettine circa un centimetro la stanza verde che se voi andate a vedere se cliccatevi potete andare a vedere come si fa quell'arbuo circa un chilo di lingua di vitello e naturalmente ci vorrà del brodo per cocciare la nostra lingua e se volete fa un brodo buono dovete cliccate qui che ve lo insegna al bocca come si fa e poi ci vorrà per condire naturalmente del sale del pepe e un filino di olio di velo buono e ora come si fa la lingua bollita ve l'ho spiegato nella puntata precedente del brodo come si fa come viene meglio il brodo la lingua bollita la metterò dentro il brodo bella bollore bello che ha fatto che sta bollendo così si impermeabilizzerà subito e avrà una cottura da bollito non da lessa e verrà più saporita e un po' meno sfatta a questo punto allora prendo la mia lingua la vado a buttare dentro un bel brodo così darà anche un po' di sapore dice che non è buona ma in lingua di vitello questa video è altra categoria per cucinare la lingua lascerò un po' stappato questa lingua ve l'ho detto dovrà cocciare circa un'oretta abbiamo messo la nostra lingua da circa un'ora dovrebbe essere quasi pronta proprio bollita secondo me altri dieci minuti ci vogliano è sempre un po' di rina ecco la nostra lingua dovrebbe essere pronta guardiamo se è morbida perché se no si fa pezzi vedi è morbida come il burro c'entra tutto a molino dovete un po' forzare all'inizio ma poi la carne se è cotta c'entra proprio qua facciamo scolare bene guarda che bella lingua di mangiare a questo punto lo andiamo a posizionare su un vasolino ma lo dobbiamo lasciare un attimo abbiamo lasciato un attimino a raffreddare la nostra lingua che andremo poi a levare la pelle vedete questa pelle qui si è da da levare non è buona la sbuccerete praticamente quando sarà cotta bene questa idea da via come mi viene a me se non mi viene via così vuol dire che non è ancora pronta dopo che l'avete ripulita di tutto il bianco la faremo a fettine va bene con tutti grassi né tutto è meglio vedete tutto più saporito è burro è burro cosa faremo impiatteremo prepareremo un vasolino con le nostre patate tiepide mi raccomando mettiamo così abbiamo fatto una corona di patate produzione remo anche la nostra lingua sempre bella tiepida buona se ne rifiniamo altre due patatine così per abbellire a finirle diciamo per tapparsi bene lo stomaco si fa un bel lavorino si mette il sale non l'ho assalata la lingua nel brodo prima dove ha cotto la lingua se che la vado a salare ora che prenda a modino anche le patate sono un po sciocchine ci si mette un po di sale anche sulle patate un po di pepe mi fa male sia sulle patate che un po anche sulla lingua bollita un filino d'olio non mi faccia male a nessuno e poi se volete lo potete lasciare dentro un ciotolino così la mia famosa salsa verde se no direttamente se sapete che a tutti può piacere o ne fate solo una parte ce la mettete un po sopra così questa l'ho fatta un po un po più densa dell'altra volta ma va bene uguale credo che si goda uguale ne fate mezza con la salsa verde e mezza no è buona anche sulla patata la salsa verde sulla patata è buona tutto dio a noi c'è il bar verde che ci si mette però ve l'ho detto potete metterci l'hanno lasciatela a parte con questo piattino e potete presentare anche per il 26 dopo natale avete fatto il bollita allora ci avete messo la lingua avete tenuta un po nel brodo la riscaldate il giorno dopo lo tagliate a fettina fate questo lavorino e vi siete fatti il pranzo per il 26 senza matti troppo con la roba che avete preparato se no fate come vi pare a voi e con questo piatto vi mando un bel bacione a tutti quanti iscrivetevi fate se vi pare commentate mettete quelle vi parà vi mando un bacione a tutti quanti alla prossima grazie a tutti